Ricordare che queste innovazioni, questa mobilitazione che abbiamo portato è al servizio di qualche cosa che è l'umanità e la nostra convivenza in questo mondo in fieri. Dunque abbiamo parlato dell'inclusione dei cittadini e per la prima volta, e questo è incluso nelle priorità del governo francese, abbiamo parlato, dicevo, per la prima volta delle PMI, perché nelle grandi trasformazioni ci sono dei vincenti e dei perdenti, ci sono delle imprese che ci hanno messo un po' di tempo, però hanno abbracciato questo sviluppo, invece ce ne sono altre che non sono state in grado di rimpatriare le competenze, investire per affrontare e assorbare questa trasformazione digitale. Dunque se non accompagniamo queste imprese, se non teniamo conto di questa problematica, queste PMI potrebbero scomparire. Se ha messo un' mod Butchartica. �zie, Il lavoro aiut 9io,